Entro il prossimo mese di agosto i lavori del sesto lotto del progetto di valorizzazione turistica di Passo Lanciano verranno appaltati e quanto emerso nella riunione convocata dall'assessore al turismo Daniele Damario che si è tenuta nella sede della regione per fare il punto sullo stato di avanzamento dell'intero progetto finanziato dal Masterplan Abruzzo per circa 20 milioni di euro. L'incontro, sottolinea Damario, è stato convocato prima della polemica politica divampata nei giorni scorsi proprio perché l'assessorato segue da vicino, aggiunto, l'andamento del progetto di valorizzazione del comprensorio sciistico. I lavori indicati nell'otto sei, finanziati per circa 900 mila euro, prevedono la riqualificazione dello stazzo di Rocca Morice, la sostituzione del bivacco Pelino, la manutenzione del bivacco Fusco, la manutenzione e realizzazione di nove terrazze panoramiche e la valorizzazione e messa in sicurezza dei sentieri di montagna. A breve verrà convocata la conferenza dei servizi per il via libera ufficiale, a giugno il progetto definitivo che apre la strada alla gara di appalto prevista per il mese di agosto.